Non sono preoccupato, sono motivato, sono carico come i ragazzi, credo. In campo portare le preoccupazioni, sentire il peso del risultato della partita non è assolutamente producente. Tutti dicono prima la partita, dai andiamo a vincere, lo dicono anche gli avversari, poi bisogna farlo sul campo. Adesso sono nove partite e bisogna vincere, parecchie. Io credo che in questo momento già avere il nostro destino nelle nostre mani è già qualcosa di importante. La squadra ci arriva con delle certezze in più, con qualcosa ancora da migliorare, ma questo ci sarà sempre. È impossibile pensare di fare il finale di campionato in 11 o in 12. Bisogna essere tutto l'organico, acceso, convinto e sapere anche chi partecipa anche solo per 5 minuti può determinare il risultato. Anche perché, come ho detto in settimana ragazzi, negli ultimi 24-25 minuti di partita spesso i risultati vengono modificati. Il 40% dei risultati sono cambiati in quegli ultimi minuti, quindi è un momento importante della gara.